Radio Radicale, siamo con Giuditta Pini del Partito Democratico, membro della Commissione Affari Sociali della Camera per parlare del pronunciamento della Cassazione che ha revocato l'obbligo di dimora per il sindaco di Bibiano Carletti una vicenda che ha visto un linciaggio inaccettabile nei confronti del primo cittadino di Bibiano, esponente del PD locale sappiamo che il sindaco Carletti ha tra l'altro querelato esponenti politici del Movimento 5 Stelle come Di Maio dopo addirittura la nascita del governo, allora che valutazione possiamo fare su questa vicenda che vi ha toccato e soprattutto che è stato oggetto di una campagna contro di voi? Ma è l'ennesima riprova di come purtroppo troppo spesso la giustizia e la vendetta siano equivocate in questo paese Andrea Carletti è stato linciato, gli hanno rovinato la vita per sei mesi e ancora adesso immagino che non stia passando un periodo molto facile hanno messo su tutte le prime pagine dei giornali, su tutti i notiziari questa vicenda con il suo arresto e poi ieri abbiamo scoperto ciò che molti sapevano già da tempo cioè che quell'arresto non si sarebbe nemmeno dovuto fare la vicenda adesso è ancora sotto processo, stanno ancora indagando dopodiché è stato usato in modo assolutamente strumentale da persone e da esponenti politici che dovrebbero invece avere altro obiettivo nella vita, un po' più alto rispetto a quello di distruggere la vita delle persone o di distruggere e mettere sotto accusa un intero sistema che era quello degli affidi in Emilia Romagna su cui la regione ha fatto un'indagine conoscitiva, c'è stata una commissione che ha portato anche dei risultati e che non meritava e non merita tuttora di essere trattata in questo modo se ci sono stati dei problemi ovviamente ci sarà sia la magistratura che si guarderà ma quello che è successo in questi mesi è una cosa che sicuramente speriamo non accada mai più a nessuno di nessuno schieramento politico perché nessuno merita un trattamento come quello che ha avuto Andrea Garletti Il segretario del PD Zingaretti è stato molto duro su questa vicenda volevo sapere anche se questo caso ha un po' condizionato i vostri rapporti all'interno della commissione che è una commissione che tratta proprio di questi temi che è la commissione affari sociali Inizialmente c'era stato il tentativo da parte di alcune forze politiche poi invece in realtà abbiamo deliberato una commissione d'indagine su tutti i casi che sono stati segnalati è stata deliberata all'unanimità proprio perché non abbiamo nulla da nascondere siamo stati i primi a dire va bene guardiamo cosa sta succedendo guardiamo se ci sono delle irregolarità e se no facciamo sapere le cose che funzionano quindi inizialmente si è tentato ma più fuori dal Parlamento che dentro perché ovviamente chiunque si occupi di queste materie sa che era una cosa abbastanza vergognosa quello che dicevano nei talk show e sui giornali ed era irripetibile infatti non lo ripetevano dentro le aule parlamentari Senta adesso oggi siete voi a dire parlateci di Bibbiano Ma sì più che diciamo di Bibbiano che è una comunità che forse in questo momento avrebbe bisogno di essere lasciata da sola sarebbe interessante capire chi ha spalato tutto questo quantitativo di fango nei confronti della comunità di Bibbiano, del Sindaco e del Partito Democratico se ha il coraggio e l'umiltà di chiedere scusa e di ammettere che aveva preso un'enorme cantonata e che forse appunto è il caso di tornare indietro e chiedere scusa Io la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio Giuditta Pini del Partito Democratico Modenese, Emiliana e membro della Commissione Affari Sociali della Camera Grazie a voi